Ciao a tutti cari amici di Uno sguardo al passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e oggi vi propongo un aneddoto sul celebre tenore Franco Corelli. Aneddoto talmente incredibile da sembrare inventato ma che vi assicuro essere invece verissimo. Dunque siete pronti a scoprirlo con me? Sigla! Dario Corelli in arte Franco Corelli fu un tenore italiano straordinario che calcò le scene dei teatri più importanti al mondo tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70 del 900. Un artista così unico con una voce così bella da essere considerato tutt'oggi come uno dei tenori tecnicamente più ineccepibili. Perfetto, c'è poco da dire. Il tutto unito al fatto che era anche un uomo con un bellissimo fisico atletico e che sul palcoscenico non guastava di certo. Ma Corelli non era solamente bravo e bello, era anche un cantante estremamente professionale e meticoloso. Per farvi un esempio, non parlava nemmeno nei giorni di recita proprio per non affaticare la voce. Viveva secondo un suo schema molto rigido, in modo che la voce potesse essere sempre il più fresca possibile. Era insomma un professionista con una cura del suo strumento quasi maniacale, il che gli costò indubbiamente non pochi sacrifici. E tenendo conto dunque di questo rigorosissimo stile di vita di Corelli, dedito totalmente al canto che arriviamo finalmente all'aneddoto. Era il 1960 e al Teatro San Carlo stava per andare in scena il Trovatore di Giuseppe Verdi. Il cast era eccezionale, Mirella Parutto, Leonora, Franco Corelli, Manrico, Fedora Barbieri, Azzucena, Gian Giacomo Guelfi, Conte di Luna, Giuseppe Modesti, Ferrando, Loretta Di Lelio, Ines, Salvatore Catagna, Ruiz, Igino Ricco, Unmesso, Gabriele Santini, direttore, per la regia di Vittorio Viviani e scene di Cesare Mario Cristini. E che lo dico a fare? All'avvicinarsi della prima erano tutti tesissimi e il più teso di tutti era proprio Franco Corelli. Il perché? Perché prima di lui al San Carlo di Napoli si erano esibiti proprio in quel ruolo il fiorfiore dei tenori, parliamo infatti di Gino Penno, Giacomo Lauri Volpi e niente meno che Beniamino Gigli. Corelli dunque stava facendo una splendida carriera che nulla aveva ad invidiare con gli altri tenori appena citati, ma proprio per il desiderio di essere sempre perfetto e ineccepibile, insomma Corelli sentiva la pressione ed era tesissimo. A mettere ancora più agitazione al tutto c'era inoltre una certa predilezione del pubblico, proprio del teatro San Carlo, verso il tenore Mario del Monaco. Dunque Corelli che ovviamente odorava l'aria dell'involontaria competizione si sentiva ulteriormente messo sotto pressione. Non sarebbe stato strano che dei fan di Del Monaco si stessero infatti già preparando magari per contestarlo, per fischiarlo, in realtà senza nemmeno aver sentito cantare Corelli in quel ruolo. Così, insomma, un po' per partito preso. Arrivò il giorno della prima, il 13 febbraio 1960, e la recita iniziò. Alla tensione già esistente se ne aggiunse altra, poiché pare che il pubblico fosse un po' distratto, applaudiva un po' a caso, spesso non al momento giusto, il che portava altri ascoltatori a lamentarsi rumorosamente per le interruzioni fatte nel momento errato dell'opera. Dunque tutto un mormorio, e tutto questo non fece altro che togliere ovviamente concentrazione a tutti, soprattutto ai cantanti sul palcoscenico. Tuttavia il primo atto, filo liscio. Al secondo si palesò un certo fervore nei confronti della Barbieri che cantava Zuccena, e al momento degli applausi, alla fine dell'atto, che all'epoca erano ovviamente collettivi, non individuali, qualcuno iniziò a gridare, Barbieri, sola, sola! Ovviamente questo non era previsto, non si faceva all'epoca, e non era nemmeno molto gentile, insomma, nei confronti degli altri artisti, che tra le altre cose erano davvero eccezionali. Ma questa voce maschile, insomma, non si fermava, e rivolto a Corelli, ebbe il coraggio di fare dei gesti come a dire «Vattene via, tu che non c'entri, via via!» Corelli, che fino a poco prima era già rimasto turbato al sentire che si reclamava la collega da sola, quando capì che gli si stava indicando addirittura di uscire dal palco, ma in un modo che manco fosse un cane, sentì dentro di sé una rabbia fortissima. Lui fu un cantante sempre molto autocritico, forse persino troppo autocritico, ma era cosciente che quella sera stava cantando da Dio, cantava benissimo, divinamente, dunque perché tanto accanimento proprio nei suoi confronti? Il sipario si chiuse, stava per iniziare la pausa, ma Corelli, invece di raggiungere il suo camerino, uscì dal lato palco proprio per dirigersi verso quel disgraziato che aveva urlato. L'aveva infatti perfettamente identificato in un palchetto, proprio mentre questo qui stava urlando, sporgendosi. Ora immaginate la scena, Corelli con il costume rosso che sguainava la spada e furibondo si dirigeva nel corridoio dei palchi, dove intanto il pubblico cominciava ad uscire proprio da questi palchetti per la pausa. Il pubblico dunque in corridoio era sorpresissimo nel vederlo, insomma non è cosa usuale vedere un cantante vestito di scena a camminare furibondo in mezzo al pubblico, oltretutto seguito da una frotta di coristi e tecnici che, capita la situazione, seguivano Corelli nel tentativo di fermarlo. Un giornalista che era presente alla recita descrisse Corelli con gli occhi che sputavano fuoco e che sembrava impersonificare l'ira di Dio. Insomma, tutti iniziarono a inseguirlo, ansiosi di capire che cosa sarebbe successo e come fare per fermarlo. Uomini in frac, ma anche coristi in costume da zingari e donne in abito da sera, tecnici. Una frotta con a capo il sovraintendente di Costanzo, deciso di bloccare Corelli prima che potesse effettivamente compiere qualcosa di cui poi si sarebbe tremendamente ventito. Corelli però non si curava di loro, arrivò al palchetto e lo trovò chiuso. Gli è da allora una forte spallata, ma così forte che riuscì a forzare la porta ed entrare nel luogo incriminato. Il malfattore reo di aver richiesto la Barbieri da sola era Mario Improta, un 22enne studente di medicina. Questi sentì improvvisamente una mano sulla spalla, si voltò giusto in tempo per vedere Corelli che stava per prenderlo per il bavero. Ma il sovraintendente di Costanzo arrivò e bloccò immediatamente Corelli con l'ausilio di altro personale del teatro. E gridarono Corelli, Corelli per favore non farlo, andrà in prigione. Ma l'ira di Corelli era ancora al culmine. Quindi realizzato che non sarebbe stato saggio continuare in quel momento in modo così vehemente, gridò comunque infuriato di Improta. Gli aspetto fuori. E se ne andò. Ritornò dietro le quinte, si diresse nel suo camerino e ci vuole una buona mezz'ora affinché si calmasse. La recita riprese, ma il sovrintendente, spaventato dal fatto che la questione potesse degenerare ulteriormente, rimase dietro le quinte a sorvegliare un po' tutti, ma soprattutto Corelli. L'opera terminò e Improta si preparò ad uscire dal suo palchetto e quindi affrontare il tenore. I dirigenti del teatro cercavano intanto di calmare Corelli, dicendogli che rischiava di essere denunciato per aggressione. Insomma, aveva sfondato la porta del palchetto. Ed altri cercavano invece di calmare Improta, nella speranza che dimenticasse la quasi-aggressione di Corelli. Corelli, infatti, per quanto fosse stato provocato, era comunque palesemente in colpa. Cioè, aveva sfondato la porta di un palco privato e qualcuno riportò che avesse addirittura sguainato teatralmente la spada davanti a Improta. Quasi una sfida-duello, insomma. Non era proprio un gesto da nulla, non era una cosa che si poteva dimenticare così. Tuttavia, i dirigenti del teatro riuscirono fortunatamente nella loro impresa. Calmarono i due sfidanti e riuscirono a riapacificarli, facendo soprattutto il tutto davanti ai giornalisti, proprio nel tentativo di non far esplodere eccessivamente la notizia. Fecero un paio di foto così assieme e la cosa parve concludersi lì. Ma logicamente un'aggressione alla prima del trovatore, da parte del famosissimo Corelli, non poteva passare inosservata. E infatti il giornalista del tempo, che fu presente alla sceneggiata, non mancò di far uscire un bel titolone sul giornale del giorno seguente. Così il tenore Corelli, ancora vestito da trovatore, si precipitò nel palco e aggridi il suo nemico. Ovviamente i toni tragici parlavano di una probabile ripercussione giudiziaria. Ed ovviamente il giorno successivo ancora la notizia si era già sparsa ovunque ed erano già in molti giornali a riportarla. Il più delle volte sono molto ragionevole, sostenne Corelli, ma io vivo sui nervi. L'opera non è cantare davanti a un microfono con una vocina. Quando sono nervoso, devo spegnere quello che ho dentro nello stomaco. Quando sono con gli altri, cerco di stare nei limiti della situazione, non importa come mi punisco quando sono solo. Ma se ci sono una o due parole in più, accendo un fiammifero a titolo illustrativo, l'ira si infiamma e può nascere facilmente una rissa, perché gli artisti sono tutti persone nervose. Tuttavia si scoprì ben presto che Improta era uno studente di canto che era stato invitato in quel palco privato proprio dalla Barbieri, di cui lui era un fervente ammiratore. E questo l'avevamo capito. Dunque non è che Improta avesse avuto qualcosa in realtà contro Corelli. Lui voleva semplicemente esaltare e adorare la Barbieri. L'atteggiamento di Corelli in realtà infastidì anche la Barbieri. E c'era da aspettarselo. Cioè lei aveva fornito i biglietti ad Improta, ma era totalmente strana dal poter anche solo immaginare il comportamento del ragazzo. Quindi alla fine di questo imbarazzante momento, Corelli e Improta instaurarono addirittura un legame d'amicizia. E' da dire però che Improta non cantò mai, ma divenne avvocato. Forse quel mondo artistico così meravigliosamente sanguigno e vivace finì per fargli cambiare idea. Chi lo sa. Corelli, dodici anni dopo il fattaccio, lo ricordò tra gli altri incidenti sulla rivista Oggi. Di incidenti me ne sono capitati molti, specialmente agli inizi della carriera. Quello di Napoli ha superato tutti gli altri perché, sì, è vero, sono andato su nei palchi sguainando la spada. Ma non voglio parlarne perché lo spettatore di quell'episodio è una persona simpaticissima, un avvocato. E in seguito siamo diventati molto amici. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene. E voi conoscevate questo aneddoto? E mi stavo chiedendo davvero quanti di noi, al posto di Corelli, avrebbero in realtà fatto lo stesso o qualcosa, insomma, di similare. Conoscete forse altre scaramucce a teatro degne di nota che vi piacerebbe approfondire? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio per essere rimasti fin qui con me e vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao!